Bellissima, se mi vedevi ieri gioia a volontà. Timidamente si ritorna in strada a sedersi ai tavoli dei bar a mangiare una pizza in pizzeria. Due giorni di zona gialla fanno respirare sia le persone che i ristoratori. È bello comunque, è bello perché comunque almeno si crea questa atmosfera, questo contatto con il pubblico, anche se a distanza è che lo devute precauzioni. Da domani però si ritorna in arancione e ancora non si sa cosa accadrà nei prossimi giorni. Alcuni ristoratori hanno scelto di non riaprire con la possibilità di sedersi a tavola e continuare con la modalità del solo asporto e delivery. Altri invece hanno optato per la riapertura totale, anche se solo per pochi giorni. In un clima di incertezza diventa complicato riorganizzarsi. Naturalmente c'è un po' di caos perché comunque la gente non sta capendo niente. Per sapere come muoverci dobbiamo aspettare sempre mezzanotte e l'una. Cioè penso che noi siamo persone, siamo umani, abbiamo bisogno di organizzarci. Viviamo in minuti, quindi ci organizziamo man mano. Non c'è possibilità di fare un programma lavorativo. Tra aperture e chiusure, zone che cambiano colore, anche il commercio ne risente. Dopo un Natale particolare alvia i saldi tra mille polemiche. Tra Black Friday e Natale, gli esercenti avevano già avviato una campagna di sconti per incentivare la spesa. Ma la situazione resta sempre difficile. La crisi si fa sentire, i commercianti però sono fiduciosi. Diciamo che Natale poi di solito era il periodo che ti poteva risollevare un po' una stagione. Diciamo, insomma, quest'anno è andata così e così. Adesso, niente, puntiamo un po' per i risaldi per cercare di risollevare. Speriamo che possa andare bene, almeno questi due mesi cerchiamo di recuperare un po' il tempo perso.